Quando ho iniziato a scrivere la storia del seno dei bambini circa tre anni fa mi sentivo affascinata dalla possibilità di potermi immergere in una storia recente di Napoli, della Campania, del Meridione, ma dell'Italia tutta, mi viene da dire, perché è stato per me veramente vivere in un'altra epoca e fare un viaggio attraverso una storia recente, però molto differente da quella che stavo vivendo, una realtà in cui nell'immediato dopoguerra l'Unione Donne Italiana e il Partito Comunista si inventarono un'iniziativa che consisteva nel trasferire fisicamente i bambini, tanti bambini, dalle zone più bisognose, più povere e da condizioni di vita misere a zone in cui potessero essere invece accolti da altre famiglie e sfamati e curati e tenuti in buona salute per alcuni mesi, per un periodo abbastanza lungo, per poi far ritorno alla famiglia di origine. E quello che mi affascinava erano le dinamiche interne che ho immaginato, quindi le dinamiche vissute da queste famiglie e anche il fatto di aver visto come l'Italia dell'epoca reagiva di fronte a un periodo storico di grande difficoltà. Quando poi da qualche mese sono ritrovata in prima persona a vivere una situazione di emergenza che non avremmo immaginato come nessuno di noi e che non è una guerra, non è una guerra, è stata una cosa e sarà una cosa differente, però comunque è una situazione che ci ha fatto fare conti con le nostre certezze, ci ha dimostrato che non tutto è accessibile sempre, che ci ha fatto sperimentare la privazione quando non eravamo più abituati a immaginare un mondo fatto di privazione, ci ha fatto sperimentare la solitudine, la lontananza in un mondo che ci aveva invece abituato alla possibilità di spostarsi in maniera abbastanza agevole in ogni momento per raggiungere tutti i nostri congiunti e familiari e questa cosa mi ha fatto pensare sul fatto che la parola solidarietà poi ha delle declinazioni veramente infinite perché nel dopoguerra solidarietà era stare uniti, stare insieme, spostarsi fisicamente dei bambini per farli star meglio e invece oggi la solidarietà l'abbiamo dimostrata e credo la dimostreremo anche nella separazione, nella distanza e nel manifestare il nostro amore alle persone che ci stanno a cuore proprio stando lontane nella speranza poi di poterci riabbracciare così come si riabbracciavano questi bambini con le loro mamme e con le loro famiglie nel momento in cui ritornavano a casa.